Lo sport per veicolare un appello per la sicurezza e per la salute sui luoghi di lavoro. Allo stadio Raffaele Paudice di San Giorgio a Cremano si è svolto il quadrangolare di calcio La sicurezza si fa in squadra, seconda edizione della HSA Safety Cup. L'iniziativa è un nuovo appuntamento di avvicinamento al HSA Symposium in programma a Napoli il 29 e 30 ottobre all'Aulamania Gaetano Salvatore in concomitanza con la settimana europea per la sicurezza sul lavoro. Il torneo è stato organizzato dall'Associazione Europea Prevenzione in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano il Comico Mitato Nazionale Italiano Fair Play e Safety Player Nazionale Italiana Sicurezza Lavoro. Quattro le squadre in campo. Per la cronaca vince i rigori Safety Players contro la rappresentativa dell'Ordine Professioni Sanitarie e Tecniche della Campania. Le due squadre in precedenza hanno sfidato la Nazionale Attori per la Vita e il team del Consiglio regionale della Campania. Ma l'importante in questi casi è partecipare. Un momento questo di oggi assolutamente significativo. Certo una goccia nel mare rispetto non al problema, al dramma che continuiamo a vivere tutti i giorni rispetto ai morti sul lavoro. Queste le parole del consigliere regionale Giovanni Porcelli. L'HSA Symposium mette in rete esperti nazionali e ben 22 atenei ed è organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dall'Associazione Europea per la Prevenzione con il supporto di INAIL Campania e BILAV e Fondo Lavoro. Vincenzo Fucillo, presidente Asso Prevenzione e Pietro Vassallo, presidente Safety Players, spiegano il senso del quadrangolare iniziativa di comunicazione e sensibilizzazione voluta per il secondo anno dal Symposium. Siamo qui per divertirci organizzando un quadrangolare di calcio ma con uno scopo molto molto ben preciso che è quello di far parlare le persone di sicurezza sul lavoro, stimolare le persone sull'argomento, sensibilizzare la cittadinanza perché è arrivato davvero il momento di dire basta con tutte queste morti sul lavoro. È una cosa dovuta perché purtroppo di sicurezza se ne parla sempre ahimè nel momento in cui succede la disgrazia, la tragedia, ma di sicurezza sul lavoro se ne dovrebbe parlare quotidianamente perché la sicurezza dovrebbe diventare una passione per tutti.